musica 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 e benvenuti ragazzuoli qui parla io2zero e oggi siamo con verdone come si chiama verdone non mi ricordo eh vabbè beat 64 io questo video l'ho fatto solo per iscritti non è vero raga quindi io inizio a contare tu questo è anzi non ho spiegato le regole questo è il nascondino su blacklight praticamente uno si nasconde e uno deve cercare e uccidere l'altro abbiamo 3000 di punti tanto il telefono suona abbiamo 3000 di punti e possiamo usarli per esempio per prenderci delle cose come l'esoscheletro o altre cose il lancio a fiamme ricaricatore vita munizioni penso che non servono però ma a te non serve è spiegato solo cp vabbè e comunque non possiamo usare questo non provarci non provarci non possiamo usare questo l'r1 la questo x ray come si chiama e ma quindi possiamo scelterci e abbiamo tre indizi a disposizione due dove saranno tipo dove sei tipo ti vedo mi sei passato davanti e l'ultimo tipo lancia una granata o lo spara in alto in alto quindi dove sei ok la tu conta così è più difficile della sfida non puoi usare l'x ray contella uno due devo trovarmi a nascondire migliore sette otto nove dieci no non vuole di che dieci vabbè ecco vai 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 speriamo che non mi come io me ne vado se arrivo qua massimo me ne scappo io io vedo io posso usare l'x ray sta venendo qua raga sta venendo io c'ho paura mi sta cagando in mano io me ne scappo dall'altro lato lo fotto no perchè sta andando qua aiuto aiuto dov'è oh aiuto sono scoperto aiuto 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 aspetta che forse vado sopra i tetti e non mi vede perchè glielo ho detto sta cosa mi vado a uccidere è meglio se non lo dice aspetta c'è paura non voglio non ucciderlo quali altri tecnico ho? vi ho già trovato oh mio dio mio dio scappa 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 ho visto il nome no no aiuto 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 oh si si sono la sono la resta la che sono sopra i tetti no perchè stai vivendo qua no aiuto ho visto il nome ho visto il nome ma dai non vale no dai aiuto 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 dai non devo farmi il nome non devo farmi il nickname più devo chiamarmi puntini 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 cerco di fare no raga come l'ho girato speriamo che l'ho girato l'ho visto no aiuto 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 oh no no si no 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 aiuto 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 comunque in tutto ciò tu non mi stai prendendo nel senso no 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 ah non mi prende no mi prende eh assegniamoci alla morte dai prendi tanto avevo il veleno ero già morto tocca a me nascondi no contare quindi conto io 1 2 3 4 ancora un minuto zii 5 6 7 8 no raga no vedi che meglio che rifacciamo il round perchè sennò è finito il tempo quindi faccio un piccolo taglio raga wiii quindi ragazzi si ecco qua abbiamo rigenerato perchè erano rimasti 5 secondi dov'è verdone dov'è dove sei ecco di là ah comunque no io conto io conto io conto tu vai a nasconderti giusto vero? perchè tu mi hai trovato quindi ora devo contare 1 2 3 4 5 anche io spari ai cartacelli 6 7 8 9 10 con la pistolina con la pistolina io vado io vado con la pistolina 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 dopo aver finito questo video ok io sono il tuo ospite speciale tanto non mi troverai mai non è vero ora mi troverai no è qua è qua è qua è qua è vicinissimo raga vicinissimo è vicinissimo non ce l'aspettava raga è vicinissimo è vicinissimo è vicinissimo ok fuoco 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 acqua scappa scappa ok si vede il nome si vede il nome si vede il nome fuoco vieni qua vado dentro l'altro mi ha fatto il suo avventare ma si vedeva il nome no no ah perchè ero scivitato e che mi hai fatto a trovarmi dietro di te no ora io nello schermo metterò tutto nero con la musichetta triste tu camminavi e io ti inseguivo no veramente perché sei nascosto veramente no no nel senso io pensavo che ti avevo trollato di brutto il troll dei troll ma io devo contare ma quanto è difficile sta mappa per nascondersi io conto ho trovato il nascondiglio ora che devo vabbè conto uno ti sei nascosto no 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 e comunque attenzione che lui il signore della guerra ha fatto due kill no ha fatto io ho fatto zero kill perchè lui mi ha killato quando io l'ho trovato questa è un'infamata non è giusto è una mafia è una mafia è una mafia è una mafia ti sei nascosto? ti sei nascosto? ti sei nascosto? non c'è un nascondiglio no ah non lo so ma io mi sto trovando nascosto io li trovo nascondigli quando cerco e poi non li li trovo più ma ti sembra giusto ok ok peccato che non si può usare ah ma sei shiftato perchè se no si vede il nome eh shiftati se no si vede il nome quanto sarebbe bello usare l'x-ray se non ti trovo anzi se non ti trovo entro i 5 minuti voglio l'indizio ti sei nascosto ah che voto per te il tuo nascondiglio è da 1 a 10 quanto quanto è? quanto quanto forte è? 9 ti ho visto ah non è vero era il fuoco mi sembrava che in una testa invece era il fuoco allora 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 io salto ma non ti sto trovando veramente ma allora indizio allora sono in una catapecchia che cosa è una catapecchia scusa? allora sono in una capsula verde ah così preciso potevi dirmi sono verde no ebbè sono in una zona mi sembrava che ero in una zona mi sembrava che ero in una zona qui era geniale quello di prima che ti eri nascosto nelle scatole che ti eri nascosto nelle scatole altro indizio altro indizio anzi voglio che lanci una granata ok ah non c'erò la granata come ah quindi come è possibile come è possibile dammi un altro indizio no si è nascosto bene ora no no veramente devo fare i complimenti un altro indizio un altro indizio io un furgone vedi un furgone da qualche parte come cazzo sto facendo questa è la mia serie devo vincere io ma seriamente sei la seriamente no è il nascondiglio perfetto raga ma sei ancora nei cosi ma sei ancora nei cosi ma sei ancora nei cosi verdi si è vicino sei un furgone si è spostato lancio dei proiettili eh mi piace sto soppo lontano ma cosa no raga torno eeeh facciamo il video perchè io devo vincere e allora altro indizio ultimo indizio che mi rimane ti posso dare se sto lontano ok anzi ti son passato davanti una volta ti son passato davanti si non ci crede andai veramente hai vinto hai vinto hai vinto hai vinto tempo scaduto dove eri dai dove eri dai Cars nooo non ci credo dove eri nascosto ci sono oh non Sidermi voglio vedere dove eri nascosto E fai conto Che mi sono passato qua Ho visto qualcuno No 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 basta Dai ora muoio Perché hai il veleno Non muoio Dove eri Non fucilarmi però No fai conto Ho visto qualcuno Mi sono messo anche qua Mi sono messo guarda Mi sono messo io l'ho spunato qua Ho messo dicevo Ho visto una testolina E poi ho detto Ad esempio voi sono andato là Non ho visto nessuno detto il fuoco Ma che figata Diventa blu E sparo qua Tipo non potevi dirmi un indizio Sono vicino al fuoco Quindi ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se così spolliciate Condividete Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Mi raccomando Passate Aspetta Aspetta Cosa No no Passate dal suo canale Ciao ciao Io vi dico addio Ciao No come lo stavo per uccidere Ciao ciao Yeah Yeah Grazie a tutti